siamo arrivati in gym allora oggi vi spiego un pochino la mia scheda di oggi oggi push day si parte con la panca piana a proposito di panca piana vi do un aggiornamento sul mio gomito e avevo il classico gomito da golfista cioè mi faceva male in pratica questa parte qui poi ho usato questa crema qui è la sustan fix che già ve ne ho parlato nel video precedente dove c'è anche il mio codice sconto li costi 10 vabbè ora ve ne parlo anche meglio di questa crema perché comunque è qui e perché la sto utilizzando anche intra workout e ora vi spiego dove come e perché ho un piccolo problema al bicipite non riesco ad allenarlo in modo completo in modo perfetto anche se devo dire che ho usato questa crema il sustan fix intra workout vi spiego prima di fare questo esercizio io vado a mettere questa crema infatti quando lo vado a fare senza sento una piccola tensione muscolare però vi dico che quando mi vado a mettere questa crema va a creare una zona in pratica di pump il braccio diventa tipo rosa questo perché comunque aiuta alla circolazione del sangue in quella zona quindi questo vi da un pump assurdo e vi allieva la tensione in una maniera assurda infatti da quando sto provando questa crema sul bicipite riesco ad allenarlo non in modo perfetto però vi posso dire che riesco ad allenarlo perché comunque sento proprio questa sensazione di super pump sento questa sensazione di una tensione diminuita e riesco a concludere tutte le mie serie che riscontrò un po di fastidio sul ginocchio qua si si mi mette poco la roba che sponsorisi nulla qui ma solo fastidio giusto non si 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 sono fastidio e partiamo con la prima serie di scuola allenante fatta bene sono 135 quindi obiettivo 5,40 vai concentrare grazie grazie grazie